Benvenuti su Stilograficamente, il canale riservato al mondo delle stilografiche. Oggi prendiamo in esame la Pilot Custom 74, una delle penne a cui sono più affezionato in quanto mi è stata regalata da una persona a me molto vicina. Ciao papà! Allora, come ho caricato questa penna? Con uno splendido Hiroshizuku Kompeki. Entrambi sono stati acquistati al negozio La Stilografica, bottega storica di Milano, in corso a Buenos Aires, più o meno ad altezza Lima. Adesso non ricordo il civico, ma poco importa. Vi darò i riferimenti puntuali. Vediamo subito le caratteristiche di questa penna. In termini di dimensioni siamo sui 14 cm. Con il cappuccio chiuso, senza il cappuccio. Siamo sui 12,5 cm. Con cappuccio calzato, anche se non vi consiglio di usarla in questo modo perché c'è la filettatura del cappuccio che potrebbe intaccare il fusto. Vedete con quanta cautela... Comunque non lo perde, eh? Con quanta cautela infilo il cappuccio. Siamo sui 16,1 cm. Questo per quanto riguarda le dimensioni. Volendo prendere in esame con un illuminated loop LED light con 40 ingrandimenti, la prendete con... È una lentina che potete prendere con pochi euro online. Vediamo se riesco a mostrarvi le caratteristiche di questo pennino. Allora, pilot 14 carati 5,8,5, misura del pennino che è 5, come dimensioni, misura del tratto M. Quindi oro 14 carati, pennino M, misura del pennino 5. Bene, non ci resta è vedere come scrive questa penna. Quindi blocco Rodia, modello 16, 80 grammi al metro quadro. Ce ne sono di diverso tipo di questa marca, mi trovo piuttosto bene anche come rapporto qualità-prezzo con questa tipologia di blocco. Anche questo acquistato alla stilografica. Allora, iniziamo con un pantogramma. The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog Ok, questo è qualcosa che non posso trasmettere tramite un video. La sensazione alla scrittura... Vi faccio intanto vedere lo shading di questo inchiostro, che trovo tra i migliori. Dicevo, la sensazione alla scrittura è di estrema morbidezza. Il pennino letteralmente pattina su questa tipologia di carta, più che ogni altra penna in mio possesso. Quindi è proprio morbida. La sensazione, direbbe un inglese, è smooth. Quindi consigliata a chi preferisce una sensazione di scrittura pressoché priva di feedback. Il feedback è veramente minimo. Se fate determinati movimenti, naturalmente aumenta. Ma perlomeno per quello che è il mio modo di orientare il pennino. Sono comunque un mancino. E, diciamo, il mio livello di pressione. Qui non è uno skipping. Sono io che ho alzato la punta della penna, inadvertitamente. Però, come potete vedere, il tratto è continuativo e l'inchiostro, diciamo, sostiene bene l'alimentazione della penna. Come variazione di tratto si va da un tratto, comunque ricordiamo che questo pennino è un pennino M. Quindi si parla di un tratto M, fino a un tratto un po' più tendente al broad, con un minimo di pressione in più. Ok? Vediamo un po' come si comporta anche con vari orientamenti di scrittura. Direi che non ha problemi. Qui non ho intenzione di farvi vedere il reverse writing che vedete su altri canali, che mostrano come si ottiene una variazione di tratto, semplicemente capovolgendo il pennino. Mi è stato sconsigliato da una persona che mi sembrava piuttosto competente, anche perché voi, man mano che scrivete, informate il pennino sulla vostra inclinazione di scrittura, sulla vostra pressione e tutti quei micro dettagli che rendono lo strumento di scrittura il vostro strumento di scrittura. Nel momento in cui capovolgete il pennino per usare il reverse writing, andate un po' a corrompere questa informazione che state trasmettendo al pennino, addirittura magari rovinandolo, quindi non lo farò. Vediamo com'è il flusso di questa penna. Non necessariamente generosissimo, non è dispendiosa in termini di inchiostro. È un flusso che definirei un 8 su 10, ok? Discretamente, leggermente maggiore del discreto in termini di abbondanza. Va bene, direi che abbiamo visto praticamente tutto, eccezione fatta per il peso. Questa penna in questo momento è carica e è da carica pesa non è andato a saperlo, un attimo, ho sbagliato io. Da carica pesa 23 grammi e 24. Come dimensioni, rispetto al suo scrivere in una mano, perlomeno per la mia di mano, che non è enorme, la penna ha delle dimensioni discrete, insomma, con il cappuccio calzato naturalmente è adatta a mani più grandi della mia, ma sinceramente non ne sento il bisogno perché ho un buon gioco. Il bilanciamento della penna è perfetto. Una cosa importante, questa penna è a cartucce o convertitore e viene data con un convertitore in dotazione che trovo magnifico perché è a pressione, si preme questo pulsante più volte durante il caricamento affinché l'inchiostro possa salire di livello. Visto che sono riuscito a consumarne un po' in questi giorni e in queste ultime sessioni di scrittura, vi faccio proprio vedere come funziona questo tipo di convertitore, che è un po' inusuale. ecco, è uno dei pochissimi convertitori che si riempie fino al massimo. Non ha problemi. Lo trovo veramente magnifico. Bene, visto che non ho un fazzoletto, metto il video un attimo in pausa perché devo sicuramente pulire questo pennino che adesso sovrabbonda di inchiostro. Qualche considerazione in aggiunta per quello che riguarda gli aspetti positivi e gli aspetti negativi che ho notato in questa penna. Iniziamo dai positivi. La filettatura del cappuccio a vite si trova sul fusto, non sulla sezione di scrittura. Quindi nell'impugnare la penna le vostre dita non incontreranno la filettatura che quindi trovandosi sul fusto e non sulla sezione di scrittura oltretutto non rischia di svitarsi quando svitate il cappuccio. Cioè spesso su alcune penne magari di fascia anche non necessariamente più bassa, effettivamente, penso alla Campo Marzio, hanno il difetto di avere la filettatura esattamente sulla sezione scrittura ma quindi svuotando il tappo svitate anche la sezione scrittura. Altra cosa di cui ho fatto accenno prima è questo convertitore che è il CON70. Lo trovate comunque a un prezzo abbastanza accessibile. Siamo intorno agli 8€ ed è sicuramente un convertitore che vale la pena acquistare. viene dato in dotazione comunque con la penna. Poi, altro aspetto positivo, la clip. La clip è abbastanza dura ma poiché è fatta da questa sferetta come unico attrito facile da infilare nella vostra giacca, nella tasca della vostra camicia. Il pennino. Il pennino è veramente ben levigato in punta e ha una lavorazione sopraffina con tutte le informazioni che servono quindi pilot 14 carati 585 misura 5 e tratto medio M. Per cui c'è tutto ed è ben levigato cioè su carta che ho utilizzato prima la carta Rodia scrive che è una bellezza. Ok, veniamo agli unici due aspetti se vogliamo negativi ma neanche più di tanto la pulizia la pulizia diventa un po' elaborata per quanto riguarda questa parte dove ho notato finire sempre l'inchiostro per cui quando sfilate il gruppo di scrittura quindi alimentatore pennino dall'alloggio si fa un po' fatica cioè se non si fa questa operazione si fa un po' fatica a rimuovere l'inchiostro che rimane in questa parte qui della penna per cui una pulizia approfondita se dovete cambiare inchiostro e non volete un viraggio di colori quindi passa per lo sfilare l'alimentatore e il pennino dal loro alloggio però si fa tranquillamente altro aspetto che più che un difetto è una particolarità non ha un sistema che sigilla la punta del pennino ma in realtà sono pochissime le penne che ho visto avere questo tipo di funzionalità quindi l'unica accortezza che dovete avere e che normalmente dovete adottare quando portate in giro una stilografica possibilmente tenetela se inchiostrata con la punta rivolta verso l'alto in modo tale che l'inchiostro non vada, non discenda lungo il condotto verso i rebbi del pennino e quindi non vada a evaporare o a saturare il cappuccio della penna a dire la verità normalmente io questa penna la tengo esattamente così sul mio tavolo per giorni la uso però spesso in caso di un utilizzo prolungato l'accortezza è di tenerla con la punta rivolta verso l'alto bene, direi che anche per questa fase che riguarda la penna è tutto passiamo all'inchiostro visto che ho intenzione di fare sempre recensioni con una penna accoppiata all'inchiostro e quindi vi faccio vedere un template che ho scaricato da fontenpen.it dal forum del sito fontenpen.it che ringrazio per aver messo a disposizione gratuitamente questo template per chiunque lo volesse utilizzare questa è la recensione che ho fatto dell'Hiroshizuku Konpeki quindi la carta utilizzata è Clairefontaine Claire Alpha una carta utilizzata per le stampanti laser la penna è quella che abbiamo appena visto Pilot Custom 74 penino M a 14 carati come potete vedere a prescindere dall'orientamento la penna scrive bene ha dello shading che non so se riesco a mostrare mi sembra di sì e queste sono le varie votazioni che le ho dato flusso discreto quindi non è eccessivamente generosa nel rilascio dell'inchiostro il che è importante perché l'unica vera pecca di questo inchiostro è il costo siamo sui 35 euro alla boccetta di 50 ml esistono boccette più piccole però stesso quantitativo di inchiostro si trova anche dell'altro la lubrificazione è buona forse anche ottima le sfumature sono ottimali si vede uno shading pronunciato lo spiumaggio sia su carte economiche che meno economiche è praticamente assente saturazione per quanto riguarda il tratto più scuro è 10 su 10 l'attraversamento carta e qui c'è un altro foglio di recensione a questo punto lo tiriamo fuori anche perché così i riflessi non ci giocano brutti scherzi dicevo l'attraversamento carta per lo più è sentente qui ho rilasciato una grossa quantità di inchiostro appunto perché mi interessava rilasciare un tratto continuo l'ho messo a paragone con un waterman inspired blue che ha una tinta piuttosto simile ma in realtà è un pelino meno acceso come blue rispetto a questo dell'Iroshizuku con pechi tempo di asciugatura almeno su questa carta Clairefontaine Clear Arfa da 80 grammi al metro quadro siamo sui 35 secondi quindi urge tampone per lo meno per i mancini con l'evidenziatore non si comporta bene siamo 5 su 10 la resistenza all'acqua invece è sorprendentemente più che sufficiente perché comunque il tratto rimane e si riesce a intuire cosa c'è dietro questo dopo aver aspettato 3 minuti che l'acqua agisse sull'inchiostro prima di tamponarla via con un foglio di carta assorbente un inchiostro senza dubbio da avere e che vi consiglio perché comunque è una boccetta che fa parte del mio scaffale e che utilizzo praticamente spesso bene grazie a tutti vi ricordo che per ricevere aggiornamenti su questo canale vi basta iscrivervi con l'icona di notifica alla fine di questo video dovreste vedere comunque comparire il pulsante per l'iscrizione vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima stilograficamente parlando ciao